Il gol non è importante, oggi l'ho fatto io ma era importante vincere. Era una vittoria fondamentale, ci serviva perché valeva 6 punti. Adesso dobbiamo continuare a stare sul pezzo perché anche la prossima è importante, è un derby, quindi dobbiamo continuare a lavorare. No, guarda, noi, innanzitutto grazie per i complimenti, poi noi ci proviamo sempre, ogni tanto il gol arriva o non arriva, magari non è sempre colpa degli attaccanti, magari altre volte non siamo noi a metterli nelle condizioni giuste. Poi, questo, come ho detto prima, dobbiamo continuare a lavorare, non ci dobbiamo far bastare questi tre punti, dobbiamo continuare perché fino a quando non è matematico non siamo ancora salvi, quindi dobbiamo continuare così. L'impresi è stato. Sì, oggi lo volevamo, la società, il mister, ci hanno preparato già da lunedì, mi fa piacere che siamo riusciti a ripagare la sua fiducia. Sia dal presidente che del direttore che del mister. Non ci sono parole, io appena ho visto la palla che entrava ho provato una gioia immensa e sono subito corso verso i ragazzi della curva che hanno fatto sempre sentire il sostegno, da quando sono piccolo che io sto qua, da quando ho 17 anni che ho visto le prime partite in prima squadra, è sempre uno spettacolo, quindi una gioia immensa. Sì, ma il lavoro è a merito di tutta la squadra, non siamo solo io, Damian e Michele, ci aiutano i centrocampisti, ci aiutano tantissimo. Oggi Kristaps ha fatto una partita importante e anche gli attaccanti che sono i primi che ci spingono in pressione e in difesa. Di Renzo è uno dei nostri ragazzi a cui tengo di più, non peraltro ma perché quando noi siamo venuti qui a Chieti, sapete già il film, non avevamo nessun ragazzo, non avevamo nessun giocatore, i primi di agosto abbiamo dovuto cominciare da zero. Era l'unico giocatore che aveva la Chieti calcio, è un teatino ed era stato messo da parte nelle precedenti gestioni pensando che non fosse all'altezza. I miei tecnici l'hanno valutato invece che poteva fare molto di più e oggi ha dimostrato, come sta dimostrando, non solo di meritarsi la maglia di titolare, ma di meritarsi qualcosa di più. Quindi sono stracontento per lui in modo particolare perché ha una storia dietro particolare. Oggi abbiamo visto il Chieti di Serra, non tanto per la qualità perché non abbiamo ancora raggiunto la qualità che noi vogliamo, ma lo spirito e la determinazione perché questo deve essere il modo in cui bisogna giocare a Chieti. E secondo me anche in altri posti se si vogliono raggiungere gli obiettivi, qualsiasi si siano, sia la salvezza o la promozione. Voi dovete fare la classifica, togliete i gol che abbiamo preso dall'87esimo fino a quando ha fischiato l'arbitro e fate la classifica del Chieti. Quella era la nostra classifica, meritata sul campo, assolutamente, perché quelle piccole distrazioni e errori li abbiamo pagati. Ma quello fa parte dell'esperienza, perché vi assicuro che questi ragazzi se le ricordano quei fatti, perché così come stavolta abbiamo segnato gli ultimi minuti, ci siamo ripresi quello che purtroppo in passato abbiamo dovuto lasciare sul campo. Al giro di boa del giro dell'andata abbiamo fatto un primo bilancio che era sufficiente, non era pienamente soddisfacente. Adesso aspettiamo di farlo quando finiamo e vediamo dove siamo, perché sono convinto che se questa determinazione delle ultime partite la portiamo fino alla fine avremo una bella soddisfazione. E secondo me questo potrà avvenire, perché lo spirito di squadra e di gruppo ormai l'abbiamo raggiunto. E dal punto di vista atletico i miei tecnici mi dicono che siamo al massimo. Quindi senza voler essere spavaldo, secondo me oggi siamo una squadra di calcio che ambisce a fare bene. Le partite prima dei fermi, non perdetele mai se non mi rovinate le feste. E io devo ringraziare i ragazzi che non me le hanno rovinate. Grazie. Grazie a voi. È una brutta sconfitta perché purtroppo oggi eravamo noi di qui con l'intenzione di almeno portare a casa un punto. Però mancano ancora quattro partite, ci sono 12 punti a disposizione, quindi la mia squadra sicuramente non mollerà. Queste partite si sa che sono delle partite con i nervi tesi e quindi ci poteva stare che per un piccolo errore si poteva perdere la partita. Oggi sicuramente avrebbe vinto chi prima andava in vantaggio, così è stato, però qualcosina in più potevamo fare sicuramente. Abbiamo fatto dei contropi, abbiamo creato qualcosina in più, però purtroppo è una costante di questa squadra che nell'ultimo passaggio manca sempre. Quindi ci è mancato l'ultimo passaggio, il passaggio decisivo e purtroppo questo a lungo andare ci ha penalizzato. Sapevamo benissimo che non dovevamo perdere punti oggi e non dovremo perdere punti le prossime partite. Quindi cercheremo di dare il massimo come abbiamo sempre fatto e cercheremo di accorciare quanto più possibile la classifica, già da domenica prossima.